Matteo Ricci, nell'immaginaria banca dell'architettura, il mattone pieno è oro che assorbe e presta la luce, materia a orologeria su cui viene edificata, assecondando un canone, la città ideale, macerata, una lapide mi folgora, affissa la casa natale, ricorda Matteo Ricci, da sapiente dei cieli introdussa in Cina la micro-orologeria divina, un clone del marchigegno che governa l'universo, la stratta materia prima che le lancette mimano, fluiva anche in Cina, a riprova che i raggiri sui quadranti delle lame sono trame del tempo infame. Non potendo vedere senza essere visto, l'imperatore Van Lee inventò l'identikit, fece ritrarre Matteo Ricci in attesa d'udienza dal pittore Mandarino per poterne studiare i tratti somatici dal suo nascondino. A cavallo fra 5 e 600 ricomparve un'invenzione di nanotecnologia applicata alla geografia, la riduzione del mondo in scala, a mappamondo. Ricci escogitò una serie di mappamondi girevoli, imperniati ai poli, con riflessi del creato, dall'universo, irraggiati. Quando la compagnia di Gesù lo richiamò indietro per fargli aggiustare orologi ecclesiastici, lui era già un mandarino, nel frattempo era anche morto. I cinesi del Celeste Impero confidano ancora nelle stelle affinché i grandi uomini abbiano equivalenti orbite. Nell'anno 2010, quarto centenario della morte, l'astro Matteo Ricci ripasserà in occidente su un'orbita cinese.